È una notizia che è arrivata diverso tempo fa, eravamo in pieno lockdown e quindi abbiamo voluto, credo l'Università ha voluto aspettare un momento più favorevole per un conferimento che fosse qui in presenza e però è una notizia di quello che fa tremare le gambe e soprattutto mi ha impegnato molto successivamente nel preparare la lezione che tra poco avrò il privilegio di esporre in questa Università. Con gli studenti e con le studentesse di Urbino c'è un rapporto che dura da qualche tempo perché ho delle frequentazioni con questa Università da tempi non sospetti, dai tempi della primissima pubblicazione del mio primissimo saggio e mentre scrivevo questa lezione devo dire che non me ne voglia nessuno, ho pensato soprattutto a loro, ho pensato a come questa honoris causa poteva onorare non solo, se volete, quello che è il mio percorso e quello che ancora c'è da scrivere ma soprattutto il percorso che deve ancora cominciare per tantissimi studenti o studentesse che insomma hanno deciso di studiare questa materia e i quali ho deciso di, insomma ho scelto di raccontare un po' come fare una pubblicità civile nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il primo momento in cui ho avuto la sensazione di dover provare a dirigere una nuova direzione per il mestiere della pubblicità, credo che sia proprio il 2007. Quello che è successo a Cannes, quello che stava succedendo nel mondo, la recessione economica che verrà da lì a due anni mi hanno imposto una riflessione che poi è culminata dentro Invertising. È il futuro della comunicazione d'impresa perché non è detto che la comunicazione d'impresa un futuro ce l'abbia nel senso che non è una provocazione o un artificio retorico. Il nostro è un mestiere di intermediazione, noi stiamo tra una sorgente e un destinatario. Nel momento storico in cui siamo, in cui i social media arrivati a piena maturazione, una internet che ormai collega quasi 6 miliardi di individui in tutto il pianeta, costringe le aziende a rivedere la relazione con i propri consumatori e con le proprie consumatrici alla luce di una relazione che viene inevitabilmente disintermediata nella dialettica quotidiana, che non è solo quella dell'acquisto, attenzione, è proprio quella della relazione, della comunicazione, cioè del mestiere che facciamo noi. Io rifletto su questo, rifletto su quali debbano essere le coordinate, prima di tutto, creative, specifiche, per poter scrivere della pubblicità finalmente gentile, civile nella misura in cui rivede il proprio vocabolario, rivede la propria semantica, ma civile anche nella misura in cui si occupa del collettivo, impatta sulle comunità e cerca di produrre un cambiamento, prima di tutto nei consumi, quindi andando a sostenere delle nuove direzioni, prima di tutto nelle scelte di consumo che vengono fatte, di qualsiasi tipo esse sia, dall'armadio alla dispensa, dal garage a una vacanza. Abbiamo bisogno non solo di brand civici, abbiamo bisogno anche di consumatori, consumatrici consapevoli e questo credo che sia lo sforzo più importante da qui in avanti per attrezzare i nuovi professionisti e le nuove professioniste a questo mestiere che ha bisogno di nuove sensibilità e nuovi atteggiamenti progettuali. Il suggerimento che consegno a chi si laureerà dopo di me è con più fatica probabilmente di quella che è toccata a me, anzi in realtà non è così perché anche a me questo riconoscimento è costato comunque anni di mestiere e di impegno su un fronte di confine tra quello che è la pubblicità per il consumo e quella che è la pubblicità per il consumerismo, che sono due sport completamente diversi. Il consumerismo si verifica laddove le persone si rendono conto che quello che compra può diventare anche un atto politico e quindi ciò che mangiano, ciò che guidano, ciò che vestono può segnare le sorti di intere comunità o banalmente degli appezzamenti di società civile che hanno intorno. Il suggerimento è in realtà, lo prendo a prestito dal distico con cui la mia lezione si apre, una frase di Surf, uno dei fondatori del World Wide Web nel 1969, siamo coetanei, io internet in qualche modo e Surf dice di essere sempre un po' insoddisfatti perché in realtà è l'insoddisfazione il motore del cambiamento è l'insoddisfazione il motore banalmente dell'innovazione o del provare a cambiare le cose. Allora, forse questo è il messaggio più importante da consegnare oggi a chi si laureerà dopo di me, in particolare in questa materia, un po' di sana insoddisfazione, che poi è quello che ha sempre detto il fondatore dell'agenzia Ogilvi che ha cullato buona parte della mia carriera professionale. Oggi ho iniziato un percorso professionale completamente diverso, autonomo e indipendente, ma per 18 anni sono stato dentro Ogilvi e David Ogilvi era solito ricordare a tutte le sue persone il mantra del divine discontent, che è quello del essere sempre un po' insoddisfatti di quello che abbiamo messo in pagina perché fino a un minuto prima e anche un minuto dopo si potrà migliorare. David Ogilvi ne faceva una questione esecutiva di framing, di layout, di strategia mentre Surf ne fa una questione quasi sociologica o antropologica. Un po' di malumore sempre, un po' di discontento, un po' di insoddisfazione può aiutarvi a produrre quel cambiamento di cui avremo bisogno nei prossimi anni. Grazie.